Nicola Biondo e Marco Canestrari hanno vissuto per anni all'interno dell'universo del Movimento 5 Stelle, nelle sue varie articolazioni. Marco Canestrari è stato dipendente della Casa Leggio Associati, Nicola Biondo è stato a capo della comunicazione del... Del gruppo parlamentare alla Camera. Alla Camera, esattamente. A un certo punto hanno abbandonato quel mondo e hanno avviato quella che possiamo definire un'inchiesta permanente sul sistema casaleggio. E il sistema casaleggio è il titolo del loro secondo libro su questo argomento. Il primo libro, Supernova, ha avuto un certo risalto per le cose che venivano tirate raccontate. In questo secondo libro ruota tutto intorno a quella che è un'oggettiva anomalia del nostro sistema politico, nel senso che per la prima volta esiste un movimento che si è fatto partito che dipende direttamente o indirettamente, poi ne parleremo, dal capo di un'azienda privata, la Casa Leggio Associati. Allora, partiamo dal titolo. Perché esiste un sistema casaleggio? In che senso voi definite quello di Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto Casaleggio, un sistema? Per un motivo molto semplice. Perché Davide ha tre casacche. È il capo della sua azienda, dell'azienda che gli ha lasciato il padre, Gianroberto, vale a dire la Casa Leggio Associati. E' il presidente dell'associazione Russo. E in quanto presidente dell'associazione Russo ha un gigantesco potere di influenza sul Movimento 5 Stelle. Ti faccio un esempio molto semplice. Se io domani vado da Davide Casaleggio e gli chiedo per un mio prodotto X, magari non proprio questo libro, una strategia di rete per il mio prodotto, lui la mette in piedi, dopodiché mi dice hai bisogno di incontrare il presidente del Consiglio, il ministro, il presidente della commissione parlamentare competente? Ecco, qui scatta immediatamente un conflitto di interessi. La cosa più grave è che nella gestione dell'associazione Russo, lui non è assolutamente scalabile, cambiabile. Sarà per sempre. Perché è previsto nello statuto questo. Assolutamente sì, lui ha blindato la sua permanenza a vita nell'associazione Russo. Ma che cosa è davvero l'associazione Russo? È insieme la cassaforte e l'anagrafica del partito. Non solo. Gestisce i meccanismi di selezione interna. L'associazione Russo è quell'associazione che gestisce appunto il portale Russo, con tutti i suoi meccanismi. Quindi se tu ti volessi candidare per qualsiasi carica nel movimento, devi passare attraverso le forche caudine della piattaforma Russo, che è quella piattaforma che ormai sappiamo tutti. Io e Marco Canessari l'abbiamo detto due anni fa, che era assolutamente una ciofeca tecnologica. Ora ne parliamo anche di quello, perché c'è stato il provvedimento. Ed è questo il sistema. Dicevate, l'associazione Russo è depositaria dell'anagrafica, ma anche dei soldi. Allora partiamo dai soldi. L'associazione Russo sappiamo che riceve, perché viene dichiarato, nel senso è alla luce del giorno, riceve i soldi, il contributo, la donazione volontaria dei parlamentari e dei consiglieri di 300 euro al mese, più riceve le donazioni del blog delle stelle. Nel libro voi ne parlate di questa cosa. Cosa ci fa con quei soldi l'associazione Russo? Allora, intanto sono... Che se non sbaglio, scusami, sono circa... Certo. Avete quantificato nel libro in 9 milioni in tutta la... 8-9 milioni di euro per tutta la legislatura. Per tutta la legislatura. Allora, intanto hanno natura diverse questi due flussi di denaro. Quelle che sono effettivamente donazioni liberali sono quelle che arrivano dagli attivisti. C'è il bottone sul portale del Movimento 5 Stelle, il blog delle stelle, dona Russo, uno arriva lì, fa click e dona. Perfetto. Non ha forma, non ha caratteristica di donazione quella dei parlamentari. Ce lo spiega un fiscalista che abbiamo intervistato per il libro, perché non sono donazioni liberali, sono donazioni obbligatorie a cui sono tenuti i parlamentari. Pena all'espulsione. Pena all'espulsione. Ripetute nel tempo, una volta al mese, quindi costanti, e quantificate in una cifra specifica. Tutte queste caratteristiche sembrano attribuire a questa transazione la forma di un corrispettivo a fronte di un servizio reso. Noi ci chiediamo nel libro se a fronte di questo servizio reso possa essere valutato come attività commerciale quella di Russo. Se fosse valutata come attività commerciale quella di Russo, in base a definizione di questo contributo che loro ricevono, ci sarebbero ovviamente tassi da pagare, fatture da emettere, eccetera. Noi siamo venuti in possesso di una ricevuta che i parlamentari ottengono a fronte di questi versamenti, che è molto particolare, perché espone la partita IVA ed espone il codice fiscale, ma non espone l'IVA. Fondamentalmente, voi dite, questi soldi dovrebbero essere inseriti in una fattura, quindi dovrebbe pagarci l'IVA, non in una ricevuta. Infatti voi nel libro arrivate a parlare di una possibile elusione fiscale. C'è da dire che il Movimento 5 Stelle ha già risposto su questo punto, ha risposto l'associazione Russo, dicendo che però non è così, che si sono consultati con l'Agenzia delle Entrate e che in realtà è tutto regolare. Io mi chiedo anche un'altra cosa, perché avrebbero bisogno di fare questa irregolarità, come la definite voi, è tutto alla luce del sole, oggettivamente loro lo dicono di chiedere 300 euro ai parlamentari. È un bizantismo inutilmente complesso questa struttura. Perché il Movimento 5 Stelle, il partito, deve subappaltare l'amministrazione della propria anagrafica, dei propri iscritti, della propria tesoreria a un'associazione terza di un privato cittadino, che peraltro non può essere sottoposto ad alcun controllo democratico, perché nello statuto si dice che può essere l'unico presidente possibile, e nello statuto scritto da Luca Lanzalone, come scriviamo nel libro, del Movimento 5 Stelle, si dice che l'associazione Russo è l'unico fornitore possibile di questi servizi. È un unicum mondiale probabilmente, è veramente singolare. Sembra quasi che Davide Casareggio stia cercando in ogni modo di mantenere una qualche forma di controllo su questa attività, che adesso magari non è un'attività commerciale. Loro hanno risposto dicendo che appunto non la considerano un'attività commerciale, però se non la considerassero un'attività commerciale non avrebbero potuto dare un prezzo al servizio che loro danno al Movimento 5 Stelle. Invece lo quantificano a prezzo di mercato, evidentemente, 300 euro al mese per ogni parlamentare. Quella piattaforma contiene anche l'anagrafica, dicevamo. I dati. Proprio nei giorni scorsi c'è stato un provvedimento del garante che ha sanzionato l'associazione Russo per il fatto che il voto democratico sulla piattaforma Russo non è del tutto anonimo. Prima era associato a un numero di telefono, Davide Casareggio con i suoi tecnici ha messo mano a questo, però è ancora presente un codice che lo associa univocamente a un elettore. Voi nel libro vi fate una domanda e io ve la faccio a voi. Di chi sono i dati della piattaforma Russo? Perché lì dentro c'è l'anagrafica, ci sono nomi, cognomi, votazioni, post. Allora, io mi attengo a quello che ha stabilito il garante della privacy nell'ultimo provvedimento di ieri, che quindi ovviamente non può essere contenuto, è un libro che ha accertato che formalmente la proprietà dei dati è del Movimento 5 Stelle, che assegna all'associazione Russo il trattamento di questi dati. Quindi i dati sono di proprietà del Movimento 5 Stelle e l'associazione Russo li tratta, è autorizzata a trattarli. È ovviamente uno scandalo il modo in cui vengono trattati questi dati. Perché è uno scandalo? È uno scandalo che il garante quantifica in 50.000 euro di multe innanzitutto. Quella è la multe che è tarata, le multe che possono fare... Certo, è uno scandalo perché, e che è il massimo in quella fattispecie, è uno scandalo perché non è stata posta nessuna attenzione nella cura e nel trattamento dei dati, cioè nella protezione di questi dati. È sciatteria o è... perché ovviamente si fanno tante dietrologie, no? In questo modo qui il capo del Movimento, il capo della Casaleggia e della Casaleggia Associati può vedere chi ha votato cosa, come e sulla base... Ti stai avvicinando al nodo politico del problema. Allora, io non so se è sciatteria, io ti posso dire solo una cosa, che hanno dimostrato di essere scarsi quelli che parlano di futuro, di democrazia diretta sul web, cambieremo le cose. Davide Casaleggio ha detto una cosa che è davvero terrificante. Lui ha detto che i parlamenti prima o poi diventeranno obsoleti. E la mia risposta è, per far votare la gente su quella ciofeca tecnologica che è la piattaforma Rousseau, è come se Silvio Berlusconi vent'anni fa avesse detto che i parlamenti saranno obsoleti e io vi farò votare con un telecomando di Mediaset su Rete4, Italia 1 e Canale 5. Dunque è davvero ridicolo che Davide Casaleggio, con quei disastri tecnologici che il garante ha detto, ci parli ancora di tecnologia. Poi c'è un problema politico. Io e Marco, prima ancora che partisse l'indagine del garante, lo avevamo nel nostro primo libro sottolineato. Guardate che i tecnici, chi ha accesso al sistema, può vedere, allora era della Casaleggio, può vedere chi vota cosa. Ti faccio io una domanda. Quindi qualcuno può avere utilizzato i voti che nel corso degli anni gli attivisti hanno fatto per espellere qualcuno, per dire lui non può essere candidato perché non è di sicuro. Certo, di affidabilità rispetto ai capi riconosciuti. E questo sarebbe anche molto grave. È un argomento che è stato dibattuto, al momento non ci sono prove però. No, no, invece sì. Non ci sono prove che sia accaduto. Che sia accaduto. però oggettivamente non possiamo avere le prove. No, il problema è che non possiamo neanche escluderlo perché il garante, e qua vengo alla tua domanda di prima, sono scarsi. La cosa più gigante del provvedimento ultimo del garante non è tanto la parte tecnica che già lo sapevamo, che non sono capaci, molto semplicemente. Hanno avuto due anni di tempo, nell'ultimo anno hanno raccolto un milione di euro dai parlamentari e non sono stati capaci di risolvere i problemi di sicurezza di quella piattaforma o non hanno voluto farlo. È oggettivo questo. La parte tecnica, diamola per assodata. Quello che dice il garante, dice che ci sono alcune manageriali, amministrative, nella gestione di questa piattaforma e di questi dati. Una su tutte, la più clamorosa, è che c'erano alcune utenze amministrative che avevano accesso a tutto nella piattaforma, codice, dati, algoritmi, tutto, che erano condivise tra più soggetti diversi, le stesse credenziali, cioè la tua password di Facebook, tu la devi a lui, a me e alla regia. Ovvio che quando si parla di voto, poi questa cosa non può essere accettata. Cosa significa che chiunque di noi avesse manipolato i voti, nessuno avrebbe potuto sapere chi fosse stato? Torniamo un attimo a una domanda che vi ho fatto prima. 9 milioni di euro circa in tutta la legislatura, no? Attraverso questo tipo, al di là della illusione e non illusione. Io voglio capire, ma se ti riuscite a capire, perché diciamo, abbiamo intuito che non li investono tutti nella piattaforma, perché se no non ci sarebbero stati questi problemi. Ma come li utilizza l'associazione Lusso? Questa è un'ottima domanda. Abbiamo scoperto che versano un po' di IVA, abbiamo scoperto che versano molti soldi al garante della privacy in multe, probabilmente anche quelle di altri, per esempio Beppe Grillo, se non ricordo male, ma pronto a essere smentito, la multa combinata da Beppe Grillo era stata assorbita dall'associazione Lusso, però avanzano comunque tanti soldi. Noi abbiamo documentato come l'associazione Lusso organizza per esempio degli eventi per sponsorizzare il proprio prodotto, i Russo City Lab, il famoso Maus, l'Open Academy, tutta una serie di iniziative che vengono portate in giro per l'Italia con il logo dell'associazione Russo, senza il logo del Movimento 5 Stelle, che il Movimento 5 Stelle non ha mai deliberato in nessun proprio atto ufficiale. Queste sono attività che ha deciso di fare Davide Casaleggio con il suo staff, evidentemente, con i suoi soci e, piccola parentesi, per determinare la natura di quei contributi che ricevono dai parlamentari, è importante sottolineare che i parlamentari non sono soci dell'associazione Russo, perché i soci sono solo quattro, chiusa parentesi, e quindi certo, con questi soldi vengono fatte anche altre cose. La domanda è, chi ha deciso? La risposta è, Davide Casaleggio ha evidentemente un potere discrezionale sui denari che riceve dai parlamentari del Movimento 5 Stelle superiori a quelli degli organi stessi del Movimento 5 Stelle. Nel libro parlate di due nuove frontiere, quando raccontate il sistema Casaleggio, la Cina e la Russia. Ci spiegate? Guarda, intanto noi avanziamo una serie di domande su che cosa è veramente questo sistema. La prima, Davide Casaleggio non è tenuto dalla legge a pubblicare la lista dei suoi clienti della Casaleggio Associati, però per igiene democratica andrebbe fatta. Per trasparenza. Per trasparenza. Chiamiamo la trasparenza. È bellissima, trasparenza. Domanda che noi ci poniamo nel libro, Davide Casaleggio ha clienti cinesi? Per esempio. O russi. Perché vi fate questa domanda? O russi. Perché abbiamo buoni motivi per fare questa domanda in questo momento. Un'altra cosa. Chi ha convinto Gianroberto Casaleggio che fino al 2014 scriveva a posto di fuoco dall'allora blog di Beppe Grillo in cui diceva che la Russia di Putin, il regime di Putin aveva ammazzato a Napoli Toscaia immediatamente dopo a cambiare. Certo, qualcosa è avvenuta. E proprio perché stiamo parlando di un sistema Casaleggio, quindi di un sistema imprenditoriale che ha contatti, relazioni nazionali e internazionali e che ha come proprio braccio politico il primo partito d'Italia. Queste domande ce le dobbiamo porre e dobbiamo ottenere risposte. Ovviamente. Un'ultima cosa a entrambi. Voi siete stati dentro l'universo dei 5 Stelle, siete usciti. Noi facevamo parte del sistema Casaleggio. Esattamente. Come lo avete, perché siete usciti e come lo avete visto cambiare? Penso che sia una domanda che mi hanno già fatto, però anche è importante insomma avere una risposta. Siamo usciti per motivi diversi, alcuni personali, alcuni professionali. Il motivo però per cui scriviamo e continuiamo a scrivere questi libri è che noi abbiamo delle chiavi di lettura di quello che vediamo e possiamo leggere tutti quanti veramente uniche da questo punto di vista, perché siamo stati davvero ai vertici di quella macchina. Il lavoro che abbiamo fatto con questo libro in particolare è stato proprio di interpretazione di notizie nella maggior parte già disponibili al pubblico. Abbiamo messo in fila i fatti, abbiamo costruito il puzzle e il risultato è questo libro. Noi crediamo che il fatto che una persona, un privato cittadino, abbia così tanto potere, così tanta influenza, senza essere sottoposto a controllo democratico sia un problema e con questo libro lo vogliamo denunciare. Nicola, come l'hai visto cambiare il movimento? A un certo punto mi sono detto che non era più quello il luogo dove volevo crescere professionalmente, se non lo permette anche umanamente. Io non sono mai stato un iscritto al movimento. Il mio ruolo così importante e rilevante non doveva essere minimamente macchiato dall'idea che volessi fare carriera politica. Io ero un giornalista corrispondente dell'Unità per la Giudiziaria. In Sicilia ero amico da qualche anno di Gianroberto e Gianroberto mi ha proposto questa straordinaria nel bene e nel male avventura. Non solo quello non era il luogo, io penso che un po' tutti gli italiani, anche chi non ha votato il movimento, si sia fatto abbagliare per speranza, per illusione, perché ne aveva bisogno, di una politica, non ti dico diversa, ma un approccio diverso alla politica. C'è stato un momento in cui io mi sono sentito un po' mancare, quando vidi nell'aprile del 2014 dal mio ufficio i primi rendiconti delle spese dei singoli parlamentari che si facevano rimborsare. I primi mesi erano bassissime, dopo 8-9 mesi erano davvero diventati casta e si facevano pagare la casa con alti prezzi, le spese non proprio necessarie. L'anticasta era diventata casta, io l'ho visto con i miei occhi e questo fu uno dei tanti motivi di incontro e di scontro con Gian Roberto e io ne sono felice di aver abbandonato quel ruolo, come di averlo preso perché mi ha insegnato moltissimo. Bene, allora grazie a Marco Canestrari in Colabiondo, il Sistema Casaleggio, edizione Ponte Alle Grazie.